non ho capito un cazzo ecco è l'informazione che volevo buonasera a tutti incredibile ma vero ma dovremmo riesserci intanto io con la bene amata la scelta non sento una bene amata l'uncia aspettate che una buon paolo buonasera buon paolo a documentarmi in prima linea sul sulla ricerca del paranormale programma presenza andava su skype destabilizzato diciamo così però è bello assolutamente bello a me è capitato una volta che la fra fra la finestra forse interpreto si è chiusa di colpo e sono scappato mai capitato che si chiudessero avvissero le finestre senza il vento agli anni agli antico di antipoli dentro casa sinceramente a me non è mai capitato un fenomeno del genere è capitata qualche altra qualche altra cosa ma non ve la racconto perché se mi avete la diretta in streaming si la rivede dopo poi addio già posso andare avanti i problemi le finestre le sbattono si è chiusi che conquista lo spiffero qualcuno che coinventa e stanzi vediamo se c'è ancora qualche